Se l'anno scorso la pressione fiscale in Italia ha toccato il record storico del 43,5% del PIL, nel 2022 è destinata a scendere al 43,1%. In virtù di ciò, solo il prossimo 7 giugno, un giorno prima di quanto successo nel 2021, gli italiani celebreranno il tanto sospirato giorno di liberazione fiscale, il Tax Freedom Day. In altre parole, dopo più di 5 mesi dall'inizio del 2022, il contribuente medio italiano smetterà di lavorare per pagare tutti gli obblighi fiscali dell'anno e dal 7 giugno inizierà a guadagnare per sé stesso e per la propria famiglia. Lo fa sapere l'ufficio studio della CGA, sottolineando che l'elaborazione di questo contatore, pur essendo un puro esercizio teorico, dà la dimensione di quanto si è elevato il prelievo fiscale e contributivo degli italiani, specie se comparato ad altri paesi europei. Guardando la serie storica che è stata ricostruita fino al 1995, il Tax Freedom Day più precoce è stato nel 2005. Quello più in ritardo, invece, si è registrato nel 2021, quando la pressione fiscale ha raggiunto il massimo storico. Tra i big dell'Unione Europea, solo la Francia ha un fisco più esoso del nostro.